bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e siamo tornati con l'episodio numero 11 del nostro vini cannoli siamo su gans corren cannoli signori allora prima di partire il video vi ringrazio per like per i commenti per i suoi genti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale e di fare anche un salto sul mio primo canale dove mi trovate come maullo 941 andiamo signori che qua la situazione si fa si fa pesante si fa pesa questo non fa nulla che cosa lo paga fa che cosa lo ha salvato a fare questo ma porca miseria non fa nulla non c'è una pistoletta ridicola e non colpisce non lo spara perché perché ho paura delle spalle ma porca miseria ok quello più pericoloso abbiamo subito eliminato il bridge la bridge bridge house io il mio inglese ok calma calma bravo bravo ammazzatelo ammazzatelo bravissima bravissima vi aspetto qua sono andati a fuoco da solo ma non c'è il tizio che c'è il tizio mamma mia che cosa spettacolare aspettate prima vado da sopra io vediamo se c'è qualcosa da poter prendere qua sopra per razzi per noi sopra sopra ci possono andare ancora no ok continuiamo a scendere bombole munizioni dai ma non i maledetti auguri auguri dai ogni tanto le zombie gli zombie ci aiutano gli zombie ci aiutano signori ok ci abbiamo fatto gli zombie ci aiutano signori teniamo teniamoceli buoni perché gli zombie in alcuni frangenti ci aiutano parecchio ma io posso dare un'altra arma al tizio qui perché veramente ridicolo questa pistoletta dai fucile a pompa per noi no no mannaggia bomba 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 ma porca miseria porca miseria cosa stava arrivando bomba bomba ok dai dai non abbiamo più bombe a mano però le bombe molotov bastano e avanzano ok dove sta il tizio dove sta il tizio ok salvataggio per noi punto di salvataggio per noi signori ok possiamo andare in questa direzione di là ci posso andare no no mi fa solamente sali scendi dalle montagne va dalle scale andiamo avanti andiamo avanti macchina fatta fuori ok calma 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 che ce n'è per tutti signori ce n'è per tutti guarda 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 mamma mia che non abbiamo fregato no non no 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 ok questo abbiamo fatto fuori no 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 occhio 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 al gas perfetto abbiamo fa abbiamo un attimino abbiamo una coordinazione che qualcosa di orribile ok zio no 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 caffè 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 calma 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 cacciara come se non ci fosse un domani cacciara come se non ci fosse un domani questo vuole morire o non vuole morire oh finalmente meno male abbiamo preso quel caffè signori mamma mia che cacciara terribile ora abbiamo stato attenti un attimino lì io non conquistare ma non mi ci trovo dammi la mia pistoletta a questo punto giochiamo dai dai ok e questo abbiamo fatto fuori calma 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 andiamo da sopra c'è un bazooka sotto che prendo volentieri stiamo attraversando il ponte signori stiamo attraversando il ponte con calma con calma senza troppa agitazione macchina che esplode via ok calma 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 no ma porca mi se no ok noi ci siamo sparazzati lui c'è il cartellone ci sbarazziamo pure questa è un'altra macchina che secondo me possiamo far saltare anche in aria ok mini mia non dovevi cambiare ma dovevi caricare carica carica zio le munizioni sono poche dai 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 stiamo attraversando il da no qua posso saltare ok quello si è bruciato brutto scemo si è bruciato abbiamo attraversato il ponte signori abbiamo attraversato il ponte punto di salvataggio attenzione cosa si è preso delle bruscine è passato dai caffè alle bruscine no brutto bastardo ti devi 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 andartene a pia a fuoco maledetto 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 non so cosa serve a questa leva ma noi la tiriamo su posso salire sì ok anche se penso che la strada sia quella di sotto maledetto maledetto no caciara terribile che fanno mi inseguono ok questo abbiamo fatto fuori questo va bene va bene vuole giocare duro giochiamo duro zio vuoi giocare duro giochiamo duro quando i duri iniziano a giocare ehi maledetto 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 io sono più forte c'ho il c'ho il mitra più pesante allora aspettate un attimo lui che sta a fare spara così a caso ok dai e questo tu continua a sparare a caso allora calma oh grandissimo così bravo vini bravo vini occhio che te da fuoco questo no vini mio una porca miseria se non moriamo almeno una volta a episodio non siamo contenti no di nuovo da qua sotto va bene calma calma non mi aspettavo il tizio no madonna mia che trambate infatti che trambate in piena faccia dai così ok allora visto che in teoria si passa da sopra aia vai vai esplodi esplodi zio no ma qua ci sono tutte le bombe sul ponte che cosa quindi di qua non siamo meno male siamo passati qua signori ci sono tutte le bombe sul ponte signori gravissima questa cosa dobbiamo cercare di fare qualcosa vogliamo fare saltarinare il ponte allora qui ci deve essere il tizio ok e questo ce lo siamo liberati calma che là ce n'è un altro che col mitra calma bravo vini mamma che tattico il nostro vini mamma che pirla il nostro vini ok questa la tiriamo pure ok lo mandiamo via a calcioni non siamo riusciti a ucciderlo non siamo riusciti a ucciderlo non siamo riusciti a ucciderlo nooo ma quanto ci sta a morire questo nooo ma porca oh ce l'abbiamo fatto siamo messi maluccio signori non siamo messi proprio bene 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 uno l'abbiamo fatto fuori questo deve andarsene a rompere le scatole nooo maledetto che non sei altro quello non so da dove è arrivato e non mi interessa saperlo signori sinceramente occhio 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 zio muori o non muori ok questo vuol salire qua sopra e invece non lo facciamo scendere giù velocemente ok da sopra posso salirci si la c'è del caffè la c'è del caffè per noi dammi il caffè dammi il caffè ok calma signori che qui c'è troppa caciara per i miei gusti qui per i miei gusti c'è troppa caciara si si tira le bombe tira le bombe zi di ritire ai tuoi colleghi le bombe bravo così ok quello pericoloso l'abbiamo fatto fuori quello pericoloso l'abbiamo fatto fuori e quanto ci sta a morire questo ok calma che riusciamo a ammazzarli tutti calma 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 bello in testa preciso no 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 aia dai 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 ok l'hai ammazzato a questo no io ne ho fatti fuori due e lui sta ancora qua a cincischiare con questo guarda stardo ok altra leva da tirare noi tiriamo leva in continuazione non so cosa sta succedendo signori ok pesi e contrappesi vabbè mi servirebbe un punto di salvataggio guarda cosa c'è là sotto dai 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 grandissimo vini altra leva dai così no 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 dai 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 con calma con calma con calma dove l'avevo vista il caffè? là dove c'è quello? mamma mia quello è tragico quello è tragico allora lo devo fare sparare no bastardo si è ammazzato no dai mi sta ammazzando malissimo grandissimo vini punto di salvataggio va bene signori allora fermi tutti la cosa si fa gazzissima è assurda va bene allora io per questo video mi fermo qui voglio capire dove stiamo andando stiamo continuando a salire sul ponte lo scopriremo nel prossimo video signori detto questo vi ringrazio per il like per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per il prossimo contenuto e per continuare questa avventura bella raga ciao